Sarà lutto cittadino domani a Salemi, nel Trapanese, dove alle 16 nella Chiesa Madre si svolgeranno i funerali di Marisa Leo. La 39enne uccisa mercoledì scorso dall'ex compagno Angelo Reina, che poi si è tolto la vita. Il sindaco Domenico Menuti ha anche disposto bandiera a mezz'asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici, invitando ad osservare una pausa di silenzio nei luoghi di lavoro durante le esequie. Ieri invece è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Marisa. L'esame autoptico si è svolto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, dove la Salma era stata trasferita sabato scorso dal cimitero di Marsala. Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire sull'omicidio e alcune risposte potrebbero arrivare proprio dall'autopsia. Non è ancora chiaro, infatti, quanti colpi di carabina abbia sparato l'uomo all'addome di Marisa, potrebbero essere stati più di tre. Così come non è ancora chiaro se la vittima abbia lottato contro il suo guzzino una volta avvertito di essere in pericolo. Intanto proseguono le indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani e sembra che Reina progettasse da tempo il femminicidio. Nelle ultime settimane aveva noleggiato un'auto e a bordo i poliziotti hanno trovato altri proiettili della stessa arma utilizzata per uccidere la donna e aveva anche fatto pedinare Marisa da un investigatore privato. Sia il titolare dell'agenzia di noleggio che l'investigatore si sono presentati spontaneamente in questura a Trapani. Risposte potrebbero arrivare infine anche dai telefoni cellulari di Marisa e Angelo Reina. Entrambi i dispositivi non sono ancora stati trovati dagli investigatori.